Ciao, qualche giorno fa ho pubblicato questo video sui fondi attivi sono meglio degli ETF. Era un video in cui reagivo a un tizio che parlava di fondi attivi. Un commento ha catturato la mia attenzione, questo di Willy Lord. Il mio consulente mi ha detto che gli ETF sono pericolosi e mi ha inviato questo video. Ovviamente, e qui scatta la reaction, e qui scatta la reaction. Vediamo un po' cosa mandano questi consulenti bancari per spaventare dall'acquisto di ETF. Il video in questione si chiama ETP Products, attenzione alle criticità, del canale contemplata più che informazione. Ora andiamo a vedere un po' un attimo il canale. Intanto ETP Products, non parla di ETF. Cosa sono gli ETP? ETP è il termine più generico che include anche l'ETF. ETP sta per Exchange Traded Product, categoria di prodotti tradabili in borsa. Quindi prodotti che vengono scambiati sulle borse, sulle stock exchange. Uno dice quindi ma anche una stock è un ETP? In genere no. Le Individual Underlying Securities, stock, bond e prodotti atomici, non vengono considerate exchange traded product. In genere un prodotto ETP è un prodotto un po' più complesso, come ad esempio un ETF o vediamo poi anche le altre categorie ETC ed ETN. Qui su Investopedia leggiamo che un ETP è un tipo di security che traccia delle underlying securities, quindi è un basket, è un contenitore che traccia altre security sottostanti, come ad esempio un indice o altri strumenti finanziari, come possono essere delle commodities, come possono essere dei bond o altre cose. E' importante per avere il ETI, exchange traded, devono essere scambiabili su stock exchange o su exchange in generale, non per forza stock exchange. Simili alle azioni, simili alle stock. Un ETF è una roba simile ad un'azione, come se fosse un'azione di un'azienda che ha come unica attività contenere altre azioni o altro sottostante e quindi tu ti compri un'azione di questa azienda. L'ho semplificata molto. L'ETF non è l'unica tipologia di exchange traded product, ci sono anche altre tipologie come ETC ed ETN. Gli ETN, ad esempio, sono Unsecured Debt Securities che tracciano un indice sottostante. In genere non posseggono il sottostante, ma hanno degli accordi derivati per tracciare il sottostante. Sono simili agli ETF in quanto tracciano degli indici, ma sono diversi agli ETF in quanto non posseggono il sottostante. Come possiamo vedere qui, visto che l'ETN non possiede il sottostante, abbiamo dei rischi associati anche alla liquidità. Se dovesse saltare l'emittente, il sottostante non c'è e anche delle inefficienze in quanto dividendi non vengono erogati e altre cose. Però con le notes si possono comunque fare anche altre cose. A me le ETN non piacciono particolarmente anche perché non ho ancora capito bene tutti i rischi associati e quindi evito di averle in portfolio. Altra categoria di exchange traded product sono gli ETC. L'ETC sta per Exchange Traded Commodities. Sono simili agli ETF, ma agiscono sulle commodities come oro, petrolio, ma molte altre cose, ad esempio anche il grano o whatever. A differenza degli ETF però, l'ETC è emesso dall'emittente ed è essenzialmente anche questa qui una nota di debito. Cioè l'emittente eventualmente compra la commodity oppure compra dei derivati sulla commodity e li usa come collaterale, però non è un ETF in senso stretto. L'ETF ha il sottostante. Quindi se vogliamo ETC è più simile ad ETN che ad ETF. Questo per il semplice fatto che alcune commodities possono essere fisicamente possedute, come ad esempio l'oro. Un fondo che investe e compra oro e compra altri metalli preziosi può averci dentro il cavo e creare sopra un prodotto strutturato, come un ETF o un ETC, e poi spezzettare in singole share e far compravendere. Il sottostante è posseduto dall'emittente. Per altre commodity è un po' più difficile. Il petrolio, ad esempio, non puoi stoccarlo, ma tu quello che vuoi fare è ogni volta avere un diritto sul petrolio che proprio dopo scade, va consegnato e rolli questo diritto. Io personalmente non investo in commodities, però ne comprendo l'eventuale utilizzo. Ma torniamo al nostro video. ETP Products, attenzione alle criticità. Il canale da cui questo video è tratto è Contemplata più che informazione. Il canale YouTube che parla di economia, di finanza, di roba, fa riferimento a un sito internet, Contemplata.it. Dalla loro pagina Chi Siamo mi sembra di capire che sono diversi PhD, docenti, sembra un gruppo di professionisti seri. Vediamo anche che fanno della formazione, corpo docenti, Contemplata Plus, scopri i nostri servizi. A me piace andare a vedere un po' di chi sto commentando, di chi stiamo parlando. Andiamo un po' a vedere alcune cose. Contemplata Plus, inizia il tuo pack. 60 più 40, 60 webinar disponibili e 40 webinar live. Scopri i già disponibili, acquista ora. Ok, di che parliamo? Di che parliamo? Acquista ora. 30 al mese o 300 l'anno. Ok, niente male, non lo so. Corpo docenti, riabbiamo Fabrizio Crespi, professore associato presso l'Università di Cagliari e Cattolica di Milano. Fabrizio Crespi. Abbiamo anche il suo LinkedIn, tutto a posto. 30-2000 follower, quindi persona autorevole, che risulta essere professore associato economia intermediari finanziari a Cagliari dal 2007 ad oggi, 16 anni e 9 mesi. Ci sono dei webinar on demand passati, che costano 20 euro l'uno e si può chiedere. Geopolitica dei mercati finanziari, sono professionisti che fanno pagare l'accesso alle loro informazioni. Ora arriva il bello. Hanno anche dei corsi, vedo corsi immobiliari, ISG, bla bla bla, roba su assicurazioni, quattro corsi su assicurazioni, così via. Corso corporate e corso asset allocation, che sembra un po' più, quello che più interessa a me. È un corso di asset allocation, quattro webinar, 150 euro, tutti tenuti dal professor Crespi, da due ore ciascuno. Elementi di base di teoria del portfolio, principali logiche di diversificazione, funzionano ancora, Markowitz, frontiera efficiente. strategie innovative di gestione del mondo del risparmio gestito, strategie, quarta puntata, strategie innovative di gestione nel mondo del risparmio gestito. Ok, bene, è un corso tenuto da un professore universitario di circa otto ore, webinar, quindi non saranno pulitissime, sarà webinar, a un prezzo ragionevole. Finora, tutto ok, tutto ok, andiamo nel video, sappiamo che abbiamo di fronte un professionista. Ormai da anni in Italia il mercato... Fabrizio Crespi. Il mercato degli ETP è in forte crescita. Cosa sono questi strumenti? Ma si distinguono essenzialmente due macrofamiglie, i cosiddetti ETF, cioè gli Exchange Trade Fund, che sono degli OICR, quindi fondi OICav, e gli ETC e gli ETN, che sono dei titoli. Ok, fino adesso corretto, terminologia italiana, OICR, Organismo di Investimento Collettivo di Risparmio, secondo la nomenclatura del TUF, Testo Unico Intermediazione Finanziaria, e sono due tipologie, quelli diciamo fondi comuni, quelli che in America sono i Mutual Fund, e poi le SICAV, SICAV sono le OICR aventi forma statutaria, faticoso, eh? Gli ETF dovrebbero essere delle SICAV, infatti gli ETF sono fondi SICAV, ok? Possiamo semplificare, credo, che con fondi comuni sono i Mutual Fund americani e le SICAV sono gli ETF e così via. Ora, si tratta di strumenti che gli investitori retail possono tranquillamente comprarsi direttamente in borsa, e che sono caratterizzati, come tutti ben sappiamo, da due elementi fondamentali, ovvero sono strumenti che replicano qualche cosa, gli ETF replicano degli indici, gli ETC ad esempio invece replicano il prezzo di materie prime, e l'altra caratteristica è che essendo direttamente comprabili dagli investitori in borsa, normalmente sono caratterizzati, soprattutto gli ETF, da costi di gestione molto bassi. Non mi sembrano correlate le due cose, cioè il fatto che siano acquistabili in borsa non è quello che fa sì che i costi di gestione siano bassi, cioè in teoria un prodotto, un fondo di investimento, ha dei costi di gestione in base all'effettivo costo di gestione, il fatto che è tradato in borsa non dovrebbe cambiare nel costo di gestione, al massimo può cambiare dei costi di accesso, delle commissioni per acquistare, dei costi di collocamento del capitale, questi possono variare e può dare un vantaggio all'ETF o non all'ETF, ma i costi di gestione sono più bassi perché non c'è un gestore attivo, ma seguono delle logiche diciamo algoritmiche che quindi costano poco da implementare rispetto a dover pagare dei fund manager che decidono come e cosa comprare e viaggiano a Francoforte a parlare con la banca, poi tornano e viaggiano in Giappone a parlare con altri investitori, fanno studi, ricerche, pagano analisi quantitative o che cavolo ne so, quello fa sì che i fondi attivi costino di più. Oltre sicuramente c'è anche un markup dell'emittente, i fondi passivi, in realtà gli ETF, sono economici per questo motivo, non per il fatto che sono tre dati in borsa. Probabilmente potrebbe contribuire in piccola parte il fatto che sono fondi chiusi, mentre il fondo attivo è un fondo aperto, cioè se domani arriva qualcuno con dei nuovi soldi, tu devi prenderli, metterli nel fondo, gestirli a parte, rimetterli nella strategia o se qualcuno vuole liquidar quote, devi comunque tu vendere e liquidare la persona, liquidare l'investitore, mentre c'è l'ETF noi ce lo compriamo sul mercato secondario e in teoria l'emittente non se ne sbatte di quello che facciamo noi nel mercato secondario. Però in teoria questo video dovrebbe essere assorbito dai costi di collocamento o dai costi diciamo di ingresso, non dovrebbe entrare in alcun modo nei costi di gestione. Però poche volte si vanno invece a analizzare in maniera un po' più attenta quelle che sono le criticità di questi strumenti. E quindi molto spesso capita che le persone che non sono addentro diciamo tematiche finanziarie o comunque che non comprendono appieno le caratteristiche tecniche di certi strumenti, magari comprano appunto questi ETP e a volte ahimè si scottano le mani e si ritrovano magari con delle perdite in portafoglio. Vabbè questo è... Sì sicuramente, la gente compra forchette ma delle volte non lo sa se le infila nell'occhio. Certo sì, posso infilarmi una forchetta nell'occhio ma dall'altra parte ho quelli con motoseghe che si divertono a fare l'elicottero con le motoseghe. Allora vediamo un attimino quali sono gli aspetti critici, partiamo dagli ETF. Sì è vero gli ETF sono dei fondi che replicano un indice a gestione passiva, costano molto poco ma attenzione perché spesso dietro gli ETF ci sono anche dei costi diciamo un po' nascosti. Innanzitutto ricordiamo sempre... Vediamo ci sta il tracking error, minuscola, il TER, poi uno spreddino, uno spreddino quando vai a comprare e vendere, vediamo un po' che costi nascosti, che segreto ci svelano. Perché per comprare gli ETF un investitore paga una commissione di trading. Ora spesso questa commissione di trading può anche essere bassa, ma dipende poi dalla frequenza con cui un investitore compra questi ETF. Se ad esempio... Ma io non capisco se lo fanno apposta. Primo moltissimi intermediari non ti fanno pagare commissione di trading. Moltissimi intermediari moderni non ti fanno pagare commissione di trading. Oltre ti fanno pagare bassissime. Altri intermediari un po' più antichi, non voglio fare un nome, per esempio il piano replay di Fineco. Credo che se sei under 30 paghi molto poco, se non zero, non ricordo. Io su Interactive Brokers pago pochissimo di commissioni di trading, per cui sì, ci sono delle commissioni di trading. Però dall'altra parte nei fondi attivi spesso hai delle fortissime commissioni di ingresso. Questo qui sembrano ometterlo. Ad esempio io decido di fare un pack in ETF ogni mese al primo giorno utile del mese, compro 200 euro di ETF, in realtà questo è molto sconveniente, perché ogni mese magari pago 5-6 euro di commissione di trading. Ovvio, se paghi 5-0 euro di trading fee, di commissione di acquisto, su 200 euro stai sbagliando qualcosa. Quindi intanto quello si può risolvere tranquillamente in moltissimi modi, o facendo un pack non mensile ma sul periodo più lungo, o cercando un cavolo di broker che non ti fa pagare 6 euro su 200 d'acquisto, di eseguito. Quindi è risolvibile. Forse la sua interfaccia sono le banche tradizionali che hanno questi costi, però da nessuna parte al mondo penso che se uno non è smart abbastanza da trovare un intermediario che non ti fa pagare 6 euro di eseguito, abbiamo altri problemi. Che equivale a una sorta di commissione di sottoscrizione molto elevata, allora a quel punto mi conviene fare un pack. Che poi 6 euro su 200 è il 3%. Ti ricordo che abbiamo visto molti fondi, nei altri video, che hanno commissione d'ingresso fino al 4%, o anche 5 qualcuno. Per cui 6 su 200 va quasi pure bene nel mondo dei fondi attivi. Su fondi normalissimo dove magari pago 1 euro al mese. L'altra cosa interessante e fondamentale da capire degli ETF riguarda il cosiddetto spread denaro lettera. Questa problematica si ha soprattutto per ETF diciamo un po' più esotici. Che non è necessario comprare. Che non è necessario comprare. Cos'è lo spread denaro lettera, il bidask spread? è appunto la differenza che c'è nel book che io vedo quando sto comprando o vendendo una quota di un ETF. Se il valore di mercato è 100 e io voglio comprare, magari non troverò nessuno che vuole vendere a 100, ma dovrò comprare pagando 100 più qualcosa. Se voglio vendere non troverò nessuno che vuole comprare a quella cifra lì, e quindi dovrò vendere a 100 o meno qualcosa. Quel 100 più qualcosa è 100 o meno qualcosa. Quel qualcosa per 2 è lo spread denaro lettera, lo spread bidask. Ora, di che cifre parliamo? Andate a vedere il video precedente, quello sulla mia critica ai difensori dei fondi attivi, su tanti ETF americani il bidask spread è qualcosa come un centesimo di dollaro. Sugli ETF europei più popolari, che tracciano World, che tracciano Mercati Sviluppati, o che tracciano S&P 500, o anche Stocks 600 europeo, gli ETF quelli che dovrebbero comporre la stragrande maggioranza del vostro portfolio, su quegli ETF gli spread sono anche lì molto molto ridicoli. Da vedelo in live, quant'è lo spread su un prodotto europeo che in questo momento è attivo in borsa. Su JustETF trovate anche informazioni relative allo spread medio. Ad esempio, sull'ETF VWCE, che è un Vanguard All Country World, troviamo che lo spread medio è dello 0.02%. Ora, vale la pena menzionare questa come aspetto negativo degli ETF? Spesso lo spread 0.01 è il minimo, è il chip, è il minimo spread possibile, qualche volta arriva a 2 centesimi di euro. Sono problemi, sono problemi, sono aspetti, sono criticità. Prendiamo un altro ETF molto popolare sui mercati emergenti, ad esempio Amy, sempre di iShares, e qui abbiamo che lo spread è sempre un centesimo di euro, che in percentuale è un po' più alto, semplicemente perché il valore assoluto della quotazione di una singola quota è più basso, per cui il minimo dello spread possibile è un centesimo, 0 non è complicato. Se ci fosse 0, quelle due posizioni in acquisto e in vendita sarebbero matchate. Vendo a 100, compro a 100, trade effettuata. Tutti i venditori, tutti quanti i compratori hanno un gap in mezzo, quindi non può essere 0 lo spread, tranne per qualche istante, e così via. Quindi questi sono gli spread di cui parliamo. Magari per qualche ETF un po' più esotico. Vogliamo prendere un ETF, non lo so, un ETF piccolo? Prendiamo un ETF a caso, First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate, un ETF che ha 3 milioni di asset under management, che un attimo controllo se posso comprarmelo io con il mio patrimonio, quasi tutto, lo compro quasi tutto. Un ETF del genere ha uno spread di 0,13 che è uno 0,7%, che sì, è un po' altino, si paga one-off, si paga l'acquisto, non è un qualcosa che paghi in maniera ricorrente, questo è un po' altino. Però quanto impatto avrà un First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF ad accumulo nella vostra strategia? Zero. Possiamo quindi concludere che lo spread negli ETF più popolari è irrilevante. Professore, non sento l'Africa, non sento l'Africa. Un po' più strani quelli legati magari ad asset meno liquidi, a indici meno liquidi, e che quindi presentano uno spread denaro-lettera molto elevato. È una cosa tecnica, lo so, ma è molto importante farla passare ai clienti, per fare capire che più lo spread di negoziazione, cioè la differenza tra il miglior prezzo in denaro e il miglior prezzo in lettera sul bug di negoziazione, è elevata, più questo significa che quando compro e quando vendo questo ETF è come se io lasciassi, come dire, una commissione al market maker. Come quando io dico a mia figlia che se ti mangi il cioccolatino, una volta a settimana poi rischi che i denti ti cascano. È vera? È un po' una cazzata. Io mi sfondo di cioccolato. Però lei ci crede? Ha detto una bugia. A fin di bene? E questo invece, lei dice, a fin di bene, suo. Per questi ETF c'è sempre un market maker e spesso per ETF poco liquidi le quotazioni sono proprio quelle che mette nel bug di negoziazione il market maker. Quindi se io compro e vendo questi ETF poco liquidi, il rischio è che ogni volta che compro e vendo è come semplicitamente io lasciassi una commissione di ingresso e di uscita al market maker. Irrilevante, non farete tante compravendite. Quante compravendite fate? Al massimo se fate il famoso pack una volta al mese pagate questo piccolo piccolo spread sugli ETF più popolari e vicino allo zero. Irrilevante, let's move on. Anche se quella commissione palesemente non viene comunicata. C'è poi un altro aspetto interessante che riguarda gli ETF ma che riguarda anche ad esempio gli ETC che è il cosiddetto effetto leva. Ad esempio esistono degli ETF su indici a leva 2. Ricordo che gli ETF sono gli occhi. Beh non è che devi comprarli eh. Quindi se io vengo in banca e dico salve vorrei non vorrei comprare gli ETF. Occhio ci sono anche quelli a leva. E sti cazzi? Allora questo che cosa significa? Significa che io ogni giorno ad esempio se investo sull'ETF DAX 30 leva 2 io ogni giorno farò il doppio della perf. Perché è entrato in questo loop? Cioè sì ci sono anche ETF che tracciano il numero di bambini sgozzati da da Freddy Krueger sui Nightmare però chi se ne frega non devo mica comprare quello mica devo comprare quello. Quindi occhio gli ETF sono brutti perché c'è anche quelli in leva. Ok? Va bene. Ma il doppio sia in positivo che in negativo quindi se il DAX fa più 2 io farò più 4 all'incirca se il DAX fa meno 2 io farò meno 4. Ora quello che spesso le persone non comprendono è il cosiddetto effetto compounding. Oh parla di quindi abbiamo finito la parte sulla leva ma onestamente se devi mostrare le criticità degli ETF una di queste qua è che esistono anche gli ETF a leva e che criticità è? Non lo uso. Le forchette tutti ne parlano bene di forchette sì sono utili potete mangiarci ma attenzione hanno anche inventato delle forchette enormi che non potete sollevare e quindi che ci fate? Non potete mangiarci con quelle. Ah e sti cazzi non le uso uso questa ci sono le forchette buone ci sono anche quelle enormi gigantesche fatte di plutonio che sono radioattive ma non le uso non le uso non le uso non le uso mamma mia che argomentazione cosa vuol dire? Vuol dire che siccome la leva è giornaliera ogni giorno io sì faccio il doppio dell'indice ma se nel corso del tempo l'indice uscilla il rischio è che dopo magari 15 giorni dopo un mese l'indice in sé si trova allo stesso livello ma per questo effetto compounding io mi ritrovo invece magari ad avere però professore però professore questo qui non si chiama effetto compounding questo qui è il volatility drag cioè il fatto che se un prodotto fa più x per cento e meno x per cento non torna al valore originale questo vale anche per gli etf senza leva si vede che 1 più x per 1 meno x fa 1 meno x quadro e c'è quindi questo qui che è il volatility drag con la leva è ovviamente esacerbato hai visto che parola ho studiato detto esacerbato c'è il professore quindi in teoria se faccio più 10 per cento e meno 10 per cento la somma fa meno 1 per cento 100 più 10 va a 110 110 meno 10 per cento che sono 11 torna a 99 se facciamo anche il contrario 100 meno il 10 per cento vado a 90 secondo giorno più 10 per cento di 99 va a 99 se ho un etf in leva 3 ad esempio quando fa più 10 per cento fa più 30 per cento il mio etf perché traccia il sottostante sul leva 3 e quindi da 100 va a 130 quando perde il 30 per cento di 130 sono 39 torna a 91 quindi un etf in leva 3 dal volatility drag viene ancora più devastato questo qui l'abbiamo già visto in tantissime salse non si chiama compounding però professor non si chiama effetto compounding se c'è forte volatilità un giorno ci guadagno di più ma il giorno in cui ci perdo rischio di andare sotto siamo partiti dagli etf in leva che non ci servono e stiamo spiegando i problemi del volatility drag negli etf in leva e chi cazzo se ne frega cioè non è un problema non è un problema è un non problema non è qualcosa da comunicare agli investitori che vengano a dirti piuttosto che comprare il tuo fondo B come B globale a uno che ha underperformato voglio pigliarmi un VWCE all country world eh ma occhio esistono anche gli etf a leva e sono pericolosi non li compro ma poi gli etf a leva se fa volatility ma non me ne frega niente non me ne frega niente andiamo avanti investimento che ho fatto quindi attenzione a questo effetto di capitalizzazione composta o compounding per quanto riguarda poi gli altri etp molto utilizzati anche degli italiani cioè gli etc quelli che seguono le materie prime beh qui ormai assodato che ci sono alcuni etc presenti appunto sul mercato che ahimè non replicano affatto l'andamento del prezzo della materia prima sottostante vedo un secondo quindi anche qui mi stai dicendo che esistono alcuni etc che non replicano il sottostante oh ho pure sentito che mio cugino ha preso un etf che in realtà poi dopo l'emittente è saltato cioè di che stiamo a parlare stiamo parlando della categoria o di casi aneddodici singoli particolarmente sfortunati io non so più cioè se questa questa è l'attacco agli etf wow e questa roba qui quando tua zia va in banca e gli fanno guarda gli etf sono rischiosi basta un professore in giacca e cravatta che ti dice tre rischi irrilevanti irrilevante irrilevante inutile e irrilevante e questo basta convincere le persone per non comprare etf ok vediamo un posto sentiamo un po' questo etc che non traccia il sottostante come mai ma perché questi etc sono anche a loro volta scomponibili in due famiglie cioè quelli cosiddetti fisici ovvero quegli etc che hanno come sottostante la materia fisica vera e propria e quindi pensiamo ad esempio alcuni etc sull'oro fisico ovvero dietro questi etc ci sono proprio delle barre d'oro depositate in questo caso non ci sono grossi problemi sale o scende il prezzo dell'oro salirà o scenderà il prezzo dell'etc il problema sorge invece per tutti quegli etc che sono costruiti su materie che non possono essere depositate non possono essere stoccate magari sono materie deperibili e quindi per creare uno strumento finanziario che segue la materia prima si dovrà andare a utilizzare uno strumento finanziario derivato in particolare normalmente si utilizzano i future quindi gli etp sono pericolosi perché se ti fai l'etc sul petrolio non traccia esattamente il prezzo del petrolio che cosa comporta comporta che l'etc ad esempio sul petrolio non investe direttamente in barili fisici di petrolio ma investe in future sul petrolio ora i future sono strumenti derivati essenzialmente se vuoi tracciare il prezzo del petrolio non esiste un prodotto che prende compra barili di petrolio e li tiene fermi dentro un cavo come può fare con l'oro perché il petrolio va fatto circolare non si stocca non è come l'oro penso sarebbe inefficiente sia per motivi di rischio tutti i barili di petrolio fermi lì un esplosio sarebbe penso molto inefficiente se vuoi tracciare il prezzo del petrolio prendi un prodotto che essenzialmente compra diritto di avere del petrolio a una certa scadenza quando sta per scadere questo diritto lo deve vendere e ricomprare un nuovo diritto deve rollare questo future e qualche volta è successo sotto covid in cui nessuno aveva spazio in modo di consumare petrolio perché non giravamo non usavamo benzina era un po' complicato e quindi il petrolio a un certo punto rollare il future del petrolio aveva un costo negativo quindi a un certo punto ovviamente in quell'epoca lì un etc che tracciava il petrolio si è trovato completamente distrutto e non tracciando più il prezzo del sottostante fisico perché comunque al distributore la benzina non era gratis questo sì è un piccolo problema quanto rilevante quanta percentuale del vostro portfolio è in etc che tracciano il petrolio o altri comodi di deriveribili zero uno per cento se vuole fare i matti speculativo due per cento del petrolio nel vostro portfolio non lo so difficilmente avete grandi esposizioni a etc sul petrolio che comunque non tracciano sempre esattamente il sottostante ma lo tracciano buona parte del tempo in genere quando non ci sono pandemie che però hanno una scadenza quindi vuol dire che periodicamente l'etc dovrà chiudere le proprie posizioni man mano che il future che ha comprato va verso scadenza e aprirne delle altre ora questo processo di chiusura la riapertura delle posizioni che viene definito rolling è in realtà un processo che in alcuni momenti di mercato può portare a perdite significative perché quando si chiude una posizione ma anche guadagni significativi e comunque non traccia il sottostante non per forza non lo traccia verso il basso può anche non tracciarlo verso l'alto se uno comprava un etc che tracciava il petrolio quando il petrolio era negativo comprava in quel momento penso che ha fatto bei guadagni quindi in teoria si discosta può portare perdite ovviamente può portare guadagni però c'è un'extra volatilità sopra alla volatilità già intrinseca della commodity stessa quindi rischio che succeda questa cosa qui di discostamento di un alcuni prodotti che nel vostro portfolio hanno peso quasi nullo mi sembra anche qui molto irrilevante come argomento finora il video è finito praticamente finora sono un po' poco stupito rido poco rido poco in future per riaprire un'altra a volte capita che la posizione che si chiuda vale meno dell'altra posizione che si deve ricomprare come dire si vende a prezzi bassi si compra a prezzi più alti ora se questa cosa continua nel tempo purtroppo succede che pian piano il prezzo dell'etc va a discostarsi significativamente dall'andamento del prezzo della materia prima aggiungeteci anche che alcuni etc sono a leva e quindi c'è ulteriormente potrebbe esserci la leva e aggiungete anche che se qualche volta andate a alloggarvi nel vostro broker poi dopo arrivano i virus oppure vi fanno del phishing e allora gli etf sono brutti un effetto compounding e aggiungeteci anche che la maggior parte degli etc sono esposti al rischio di cambio in quanto le materie prime sono quotate in dollari questo ce l'ha pure se il tuo fondo attivo questo video che abbiamo appena visto è stato consigliato a un mio follower quando è andato in banca e il consulente gli ha detto guarda questo video così vedi che gli etf sono pericolosi ora il video del professor crespi penso abbia un valore didattico nel senso certo ha mostrato qualche rischio di exchange traded products rischi che sono irrilevanti per il 99,999% della gente per il 99,999% del tempo però se è un video accademico ci sta pure ha dovuto mostrare esattamente i problemi anche per quanto sottili possano essere ma sono again completamente irrilevanti per quanto riguarda l'investitore comune è stato un video un po' difficile è stato un video forse troppo tecnico e la gente starà ancora dicendo sì però il professore mi ha fatto vedere ci sono dei difetti quindi gli etf non sono tutti belli queste cose che vanno dette cose che abbiamo detto miliardi di volte però vi faccio una metafora che forse capite meglio state con me ancora un minuto state con me ancora un minuto allora si dice in giro che Massimo Boldi non è un bell'uomo che è un po' anziano che è grassoccio che ha pochi capelli ha le macchie in faccia eh? eh? si dice così è vero? ma invece le stesse male lingue dicono che Chris Evans Captain American della serie Marvel è un bell'uomo però però voglio mettervi un attimo in guardia dagli aspetti che forse nessuno vi ha mai detto di Chris Evans ad esempio in questa foto se potete vedere ha una righetta qui un po' scura non trovate che questa riga potrebbe essere pericolosa potrebbe essere una malattia grave non lo sapete quindi ha questa righetta che io non trascurerei indossa una canottiera che fa delle pieghe fa delle pieghe qui sotto il pettorale e qui in zona in zona addome queste pieghe potrebbero in qualche modo essere poco estetiche potrebbero essere poco estetiche poi se state attenti si vede che i capelli non sono perfettamente perpendicolari e prendono delle direzioni non proprio non proprio bellissime e poi forse forse un sopracciglio ha una colorazione lievemente più chiara dell'altra che non si sa se è un effetto luce oppure no quindi vi ho dimostrato che Chris Evans in realtà non è più bello di Massimo Boldy ok? TATATATATATATATATATATATATATATAT cipollino Sì, no!